Il vento di Tagba Bujukustun a Venezia. La famosa attrice Tagba Bujukustun ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia, dove produzioni ambiziose hanno gareggiato per il Leone d'Oro. La mostra del Cinema di Venezia, giunta quest'anno alla 81esima edizione, prosegue a pieno ritmo. Al Festival sono state proiettate molte produzioni di prestigio, tra cui Maria, con Aluc Bilgeiner e Angelina Jolie, e il nuovo film di Brad Pitt, Wolf Song. Molti nomi famosi sono apparsi sul tappeto rosso, dove si è svolta la competizione per l'eleganza. Uno di questi nomi è Tagba Bujukustun, una delle stelle nascenti dell'ultimo periodo, e la quarantenne Ildiz ha scelto un abito senza spalline firmato dalla maniglia della patente. Tuba Bujukustun, che ha partecipato al Festival come volto di un marchio di gioielli, ha condiviso le sue pose veneziane una dopo l'altra. I post di Tuba Bujukustun ricevono migliaia di mi piace e commenti. Tuba Bujukustun è stata l'ultima volta al concerto di Justin Timberlake in Danimarca. Grazie a tutti per aver guardato il video. Arrivederci, ci vediamo in nuovi video.